Quello che viviamo è un tempo difficilissimo, pieno di enormi sconvolgimenti che mutano la geografia, la politica, il modo di pensare, il modo di comportarsi. Noi viviamo una fase della globalizzazione che è segnata sempre di più da concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi e questo è uno scenario, è uno squilibrio che mette a rischio addirittura interi Stati nelle aree periferiche del nostro pianeta e che nelle nostre società mette a rischio intere fasce sociali. La crisi economica ha portato la paura, la paura di non farcela, di non trovare lavoro o di perderlo, di non poter realizzare il proprio progetto di vita e poi le guerre, le migrazioni, il terrorismo hanno aggiunto a quella paura altra paura, le inquietitudini che alimentano la chiusura e sono il terreno più favorevole per l'antipolitica, per gli egoismi nazionalisti, populisti. Noi sappiamo che ovunque la sfida che un tempo era tra sinistra e destra, oggi è tra europeisti e anti-europeisti e noi sappiamo che solo chi crede nell'Europa può cambiarla ed è questa la sfida di noi socialisti europei. Oggi che l'Europa sembra una sommatoria di opportunismi e allora hanno buon gioco i Salvini, Le Le Pen, i Grillo a darle addosso, perché l'Europa che alza muri contro chi cerca riparo da guerra e terrorismo, quella guerra e quel terrorismo che sono i nostri stessi nemici, quell'Europa tradisce se stessa, la sua storia, la sua identità, i suoi valori condivisi. Senza una politica comune dell'Europa sui migranti non potrà mai essere credibile come grande potenza per svolgere un ruolo nei confronti del Mediterraneo, nei confronti del Medio Oriente. Noi dobbiamo dire che i morti a largo di Lampedusa, sulle coste di Bodrum, sono morti europei, che i ragazzi in fondo al Mediterraneo sono gli stessi ragazzi morti al Bataclan. Sta qui, qui noi possiamo costruire una nuova generazione di europei che metta al centro un'agenda politica di lotta senza quartiere alla diseguaglianze per la redistribuzione, per la flessibilità come il nostro governo sta facendo, che costruisca la più netta discontinuità con il rigorismo, con l'austerità. È imbarazzante vedere quanta timidezza e subalternità ci sia ancora oggi tra i socialisti europei, quanti balbetti sulla flessibilità. È imbarazzante vedere alcuni leader socialisti al governo nei Balcani o nei paesi scandinavi scimmiottare le parole di Orban. Ecco il PSE, così com'è, è inutile, è lo specchio dei mali dell'Unione Europea. E allora tocca a noi, tocca a noi democratici, la forza maggiore della sinistra europea, farne davvero un soggetto politico capace di iniziativa, di mobilitazione, a partire dal referendum nel Regno Unito. Ma per farcela, ecco, servirà un partito democratico molto diverso da quello di adesso, più vicino alle aspettative dei tantissimi che nel 2013 hanno partecipato al nostro congresso per essere protagonisti di una rifondazione del Partito Democratico. Dove sono quelle energie? Io dico guai a tradirle. Il PD non può essere il partito solamente del conteggio delle tessere, ma soprattutto deve essere il luogo della partecipazione consapevole, un luogo aperto, innovativo, reinventato. A noi tutto questo ancora manca. I vecchi modelli sono superati, eppure sono ancora i vecchi modelli a sopravvivere perché non c'è una strategia per ripensare il nostro modo di essere. Io penso che sul territorio il nostro partito sia di fronte a un bivio, essere un partito degli eletti, forte, competitivo, oppure essere veramente un partito della partecipazione. E tra questi due modelli c'è una grande differenza, la grande differenza che corre tra conservazione e innovazione, tra notabilato ed emancipazione. E questi due modelli sono differenti nel rispondere a un rischio che noi sul territorio abbiamo, del trasformismo, del gattopardismo, che sono antitedici al Partito Democratico e noi dobbiamo combattere. Ecco, voglio dire che quello che sarà il PD saremo noi a deciderlo. Per questo non mi convince quando autorevoli dirigenti dicono se entra Cuffaro o i Cuffariani io me ne vado. Ecco, io capisco il punto, ma mi pare un atteggiamento subalterno. Noi dobbiamo dire tutti insieme che nel PD non entrerà mai Cuffaro, nel PD non entreranno mai i Cuffariani. Questo è il nostro compito, in una società incerta trasformare l'incertezza in voglia di cambiamento e non lasciarla, e chiudo al risentimento. E su questo terreno di ricostruire la fiducia che c'è la nostra battaglia per i diritti civili, per mettere al primo posto le persone, le loro aspettative, per abbattere muri e discriminazioni. Se i grillini non ci avessero voltato le spalle e non avessero voltato le spalle a migliaia di italiani che aspettano, noi già oggi festeggeremmo una legge che tiene insieme unioni civili e adozioni del figlio del partner. È giusto, come in gran parte d'Europa, che questi due istituti stiano insieme, perché è l'unico modo per fare sì che questa legge non serva solamente per gli adulti, ma serva per i soggetti più deboli, per i bambini, per tutelare il loro diritto ad essere difesi, ad avere una famiglia. Io penso che questo obiettivo noi possiamo centrarlo, servirà all'unità del PD. Per questo io faccio un appello ad un patto di tutto il Partito Democratico unito per limare le cose che ancora non vanno, ma per tenere quell'impostazione che non è impostazione solo di una parte, ma è l'impostazione, concludo, di tutte le culture fondative del Partito Democratico. Facciamo un intervento ad hoc, parallelamente alla legge, per rafforzare la deterrenza contro l'uto in affitto e portiamo a casa una legge che sarà decisiva e davvero chiudo per tornare a dare felicità a tanti nel nostro Paese, perché un Paese che non produce felicità non può neanche produrre benessere e noi ci battiamo invece questo Paese per cambiarlo tutti insieme. Grazie.